Era prevedibile che prima o poi sarebbe successo momenti convulsi allo SPEMP, Ufficio Sanità Pubblica Epidemiologica e Medicina Preventiva dell'ASPE di Caltanissetta. Mercoledì un gruppo di cittadini, tra i quali alcuni positivi e quarantenati, si sono recati all'ASPE negli uffici dello SPEMP per protestare rispetto alla loro situazione. Sono arrivati e, trovando le porte d'ingresso degli uffici chiuse, hanno cominciato a bussare con calci e pugni, esasperati per non avere notizie della loro condizione di isolamento e quarantena. Molti di loro attendevano ancora i tamponi di ingresso, altri di liberazione. L'ufficio diretto da Franco Iacono è stato sotto pressione, troppi casi e tracciamento indietro almeno di una settimana. La situazione, per fortuna, non è degenerata e non è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Agli utenti che chiedevano informazioni, dopo un primo momento di agitazione sono state date le risposte, dunque tutta la situazione è tornata nei ranghi. Purtroppo episodi del genere potrebbero riaccadere, molti troppi ancora in isteni che attendono risposte.